Il Comune di Castellabate ha avviato le procedure per attivare l'iniziativa Garanzia Giovani, rendendosi disponibile ad ospitare sei tirocinanti con una concreta opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. Si tratta di un bando regionale a cui l'amministrazione comunale ha ufficialmente aderito approvando la delibera di giunta sul programma PAR, Piano di Attuazione Regionale. È stata quindi definita un'esperienza formativa e di lavoro per un periodo di sei mesi, a diretto contatto con le istituzioni destinato ai giovani disoccupati o inoccupati tra i 15 e i 29 anni. Ai tirocinanti verrà corrisposta inoltre un'indenità mensile per il servizio svolto. Il progetto verte sulla promozione turistica e culturale del territorio con il coinvolgimento dei giovani tirocinanti nelle attività del Castello dell'Abbate, del Museo dell'Arte Sacra e dei punti di informazione turistiche. La selezione dei candidati avverrà a breve, una volta definite le modalità attraverso cui accedere ai tirocini. L'assessore alle politiche giovanili Elisabetta Martuscelli dichiara il nostro comune attiva da sempre occasioni per l'ingresso dei giovanissimi all'interno dell'ente come il Servizio Civile Nazionale o le opportunità date dai progetti di formazione come ad esempio WeStation Cilento. Anche stavolta attraverso il bando Garanzia Giovani siamo felici di poter realizzare un'esperienza all'interno dell'ente municipale, quale occasione di crescita stimolante per i ragazzi alla ricerca di una prima occupazione.